Ecco invece appunto quelli che rimangono in campo del Sassuolo come vuoti vengono calati, alcuni crollano, perché comunque una squadra che soprattutto dopo il gol annullato di Volpato rincula tanto, comincia ad avere paura anche l'autore del gol Erlich, commette errori banali, analizziamo Torsbet che sicuramente più di qualcuno avrà schierato e qualcuno ci avrà puntato, oggi una buona gara, sufficiente per il secondo tempo anche più che sufficiente perché ringhia spesso bene sulle gambe degli avversari, tiene sulla corda ai suoi, De Raglia incredibilmente invece anche lui nei minuti di recupero anche con gesti abbastanza evitabili come quello che gli fa prendere il cartellino giallo quando cerca di riportare in campo Bairami infortunato, sono quelle classiche situazioni che poi riaccendono anche l'arena e rimettono tanto in partita il Cagliari, quindi sia dal punto di vista mentale che tecnico-tattico Torsbet crolla nel finale e prende 5,5.